Eccomi qua, di cosa parlo oggi? Oggi parlerò di biglietti ferroviari autodeterminati con OIPT che è questa cosa per la quale noi possiamo autodeterminarci e fare un sacco di cose. Questo biglietto ferroviario, essendo autodeterminato, va riconosciuto dalle autorità qualora venisse richiesto i treni, voi presentate questo biglietto che essendo autodeterminato non ha bisogno di nulla di particolare. Quindi, come funziona? Qua ci sono un sacco di simboli con i quali quando uno vi chiede il biglietto voi il biglietto vi fate vedere questo qua che è stato appositamente dimensionato per essere stampato a casa con la vostra stampante autodeterminata che è della stessa dimensione del biglietto normale che poi voi potete andare ad obliterare qua sui lati come biglietto normale ma questo qua, essendo un biglietto autodeterminato non solo ha la stessa validità non ha semplicemente la stessa validità anzi ha una validità maggiore perché? Vi spiego perché perché quando diciamo nel 1776 il popolo unico dichiara in base al diritto marittimo transcontinentale la sua appartenenza a questo territorio pertanto tutti i gatti sono annullati da disposizione vigente quindi voi con questa cosa vi autodeterminate anche per viaggiare cosa che prima magari non c'era invece adesso io mi sono messo là ho letto tutta la documentazione OPPT che è chiara molto chiara e si capisce tutto e ho costruito questo biglietto autodeterminato prossimamente oltre al biglietto del treno autodeterminato farò anche il biglietto della metro autodeterminato quello dell'autobus autodeterminato che va poi applicato il diritto marittimo in un altro modo ma se uno studia bene le carte e capisce le cose e sa come fare poi questa scritta qua Cvac ve la faccio vedere meglio Cvac, Cvac, eccetera questa scritta qua è quella che certifica il biglietto autodeterminato al 100% quindi voi con questa certificazione fate tutto e nessuno vi può dire che non vale o altre cose poi altra cosa importante come utilizzare il biglietto voi vi stampate il biglietto e ve lo stampate senza la città di arrivo e di partenza quindi ve lo stampate così poi aggiungete anche a penna la città di partenza senza l'arrivo, la data, eccetera perché l'autodeterminazione prevede che uno possa scrivere le cose anche a penna che noi ci autodeterminiamo per dire che noi siamo determinati noi stessi e lo facciamo tramite noi stessi con il trust mettiamo la città in questo caso io ho messo Roma e Pisa allora uno potrebbe dire Roma cosa? Roma Termini Roma di Burtina Roma Ostiense Pisa cosa? Pisa Centrale Pisa San Rossore bene siccome si applica il diritto portuale il diritto portuale cosa prevede? che il porto è di una determinata città e quando si arriva al porto uno arriva in tutta la città non è che arriva in una parte della città quindi quando in questo caso con il diritto portuale associato al diritto marittimo secondo il trust del 1766 io quando devo partire da Roma scrivo solo Roma non è che devo scrivere Roma di Burtina perché Roma è valido per tutta Roma difatti quando uno si muove dentro Roma c'è solo la città di partenza e non c'è quella di arrivo quindi se devo andare da Roma Termini a Roma Ostiense io scrivo solo Roma ok? questo è facile dopodiché qui sotto in basso in piccolo c'è il perché tutto questo discorso qua è valido qui sotto scritto in piccolo che se uno vuole se lo va a leggere c'è anche un timbro quindi è tutto autenticato firmato autenticato con l'autodeterminazione e quindi è valido ok? questo lo stampate a casa poi io lo allego al video con il file senza la scritta della città di partenza e arrivo e voi ve ne stampate un po' e poi ve lo compilate quando dovete salire sul treno ok? e questo è chiaro questo è insomma questo è quello che dovete fare voi prendete e stampate questi biglietti dopodiché se qualcuno vi dice qualcosa gli dite guardate in basso qui dove è scritto in piccolo c'è scritto come funziona tutto e quello vi autorizza a stare sul mezzo ok? poi farò più tardi farò anche i biglietti della metro e del pullman sempre con autodeterminati però è un po' diverso il diritto marittimo proviario è diverso dal diritto marittimo transitorio del bus sul territorio locale bene ho detto tutto e se avete i dubbi insomma sapete a chi rivolgervi e va bene così